Prima di perdere conoscenza, Dose voleva dirmi qualcosa e credo che stesse formando una parola. B-O-U-D-J-A-N Carabouján Carabouján! Significa qualcosa per voi? O per tutte le manette! È straordinario! Che cosa? C'è una grande svendita di bombette a metà prezzo! Insomma, diopo! Non è questo il momento! O per tutte le manette! Cosa c'è? Anche i bastoni a metà prezzo! Non volete prendere in carico questa prova? Immancabilmente! Non temere, Tenten! La prova è al sicuro con noi! Come sei? Oh, beh, io sono già di sotto! Cerca di starmi dietro!